Dal mondo del garden a quello dello sport e dell'outdoor, dagli animali all'enogastronomia, passando per l'artigianato con creazioni originali e obbistica. All'Arezzo Fiere e Congressi è così tornato Passioni in Fiera. Anche quest'anno l'edizione autunnale si svolge in contemporanea ad Agrientour, l'ormai tradizionale salone dell'agriturismo e del turismo rurale. È un'offerta davvero variegata in cui le famiglie possono trovare diverse risposte. Abbiamo spazi dedicati al giardinaggio, all'outdoor, allo sport, tempo libero, agli animali, una bellissima sezione animali e quest'anno la novità è anche il villaggio western dove bambini e familiari possono anche provare dei balli western con tanto di stivali e cappello. Non manca l'area dedicata alla creatività, che ne abbiamo tantissima in Arezzo e in Toscana, che è l'artigianato. Quindi troveremo delle bellissime oggettistiche dalla pelletteria, piuttosto che al legno, al re di casa, al tessile. Quindi un po' per tutti i gusti, senza dimenticare, chiaramente, non può mancare in una fiera quella che è la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche. Quindi avremo tantissimi produttori che potranno far degustare i loro prodotti e poi a chi vorrà venderli. Ci saranno tanti laboratori del gusto, cooking show, quindi un po' per tutti i gusti appunto. Quindi vi aspettiamo in questi due giorni di Passione in Fiera.